Ciao ragazzi, in questo video proseguiamo il discorso sui polinomi che abbiamo cominciato nei video precedenti della playlist parlando della divisione tra polinomi. Prima di dare un'occhiata all'algoritmo che ci consente di eseguire concretamente la divisione tra due polinomi, vale la pena soffermarsi un attimo sul che cosa significhi dividere due polinomi e per capirlo ci conviene ripensare alla divisione tra numeri interi con cui tutti abbiamo una certa familiarità fin dalle elementari. Giusto per fare un esempio, se alle elementari ci avessero chiesto quanto fa 7 diviso 2 avremmo risposto che il risultato è 3 con il resto di 1 e avremmo chiamato questi numeri rispettivamente il dividendo, il divisore, il quoziente e il resto. Naturalmente la relazione che lega questi quattro numeri è quella che vedete qui sulla destra e abbiamo quindi che il dividendo è uguale al divisore per il quoziente più il resto. Capite quindi che fare la divisione è in un certo senso equivalente a chiederci di trovare questi due numeri e con i polinomi le cose funzionano in maniera piuttosto simile. Svolgere infatti la divisione tra un certo polinomio che possiamo indicare con a di x e un secondo polinomio che possiamo indicare con b di x è equivalente a chiederci di trovare due nuovi polinomi che possiamo indicare con q di x ed r di x e che chiameremo rispettivamente il quoziente e il resto legati ai due precedenti dalla relazione che vedete qui sotto e che è fondamentalmente la stessa che valeva prima per i numeri interi. L'unica differenza concettualmente è che questa volta il quoziente e il resto così come il dividendo e il divisore in generale sono dei polinomi e non più semplicemente dei numeri. Si può poi dimostrare facilmente che il grado del quoziente è pari alla differenza tra il grado del dividendo e il grado del divisore, mentre il grado del polinomio che fa da resto è minore stretto del grado del divisore. E l'altra cosa importante da ricordare è che affinché la divisione tra polinomi sia fattibile è necessario che il grado del divisore sia minore o uguale del grado del dividendo. Ah, intuitivamente il motivo per cui le cose devono stare così è che altrimenti il grado del polinomio che si otterrebbe qui a destra, dopo che uno ha fatto i conti, sarebbe evidentemente maggiore del grado del polinomio che c'è qui a sinistra e dunque un'uguaglianza di questo tipo tra polinomi non potrebbe essere verificata. Appurato questo, per fissare meglio le idee e vedere concretamente come fare a svolgere la divisione, diamo subito un'occhiata a un primo esempio. E supponiamo che ci venga chiesto di dividere il polinomio x alla terza meno 2x alla seconda più x meno 3 per il polinomio x quadro più 1. Per risolvere l'esercizio, la prima cosa da fare è realizzare una costruzione come quella che vedete qui. Quindi si ricopia il dividendo, si traccia una riga verticale e poi si posiziona il divisore. E per comodità, conviene tracciare anche una riga orizzontale al di sotto del divisore per separarlo dalla zona in cui tra poco andremo a scrivere il quoziente. A questo punto si procede così. Si prende il monomio di grado massimo del dividendo, che nel nostro caso è x alla terza, e lo si divide per il monomio di grado massimo del divisore, che nel nostro caso è x quadro. E si scrive il risultato dell'operazione, che nel nostro esempio specifico è x, qui sotto. A questo punto si prende il monomio appena ottenuto e lo si moltiplica termine a termine per tutti i termini del divisore. E il risultato di questa operazione lo si scrive cambiato di segno qui a sinistra. Nel nostro esempio specifico abbiamo un x per x quadro che fa x alla terza, e dunque qui scriviamo meno x alla terza, e poi abbiamo un x per 1 che fa x, e dunque qui scriviamo meno x. A questo punto bisogna sommare questi due polinomi, e nel nostro esempio specifico abbiamo un x alla terza che va via con un meno x alla terza, e un x che va via con un meno x. Dunque ci ritroviamo con un meno 2x quadro e un meno 3. A parentesi, vi faccio notare che prima il meno x alla terza e il meno x li avevo incolonati rispettivamente sotto l'x alla terza e l'x, e adesso capite anche perché. Perché poi quando devo sommare questo polinomio con questo, se ho i termini dello stesso grado allineati per colonne, procedo più rapidamente nel fare la somma. Arrivati a questo punto, si procede esattamente come eravamo partiti all'inizio. Cioè si prende il monomio di grado più grande del nuovo polinomio che abbiamo ottenuto, che nel nostro caso è meno 2x quadro, e lo si divide per il monomio di grado più grande del divisore, e il risultato di questa operazione, che nel nostro caso specifico è meno 2, lo si scrive qui sotto. Dopodiché prendiamo il nuovo termine appena ottenuto e lo moltiplichiamo termine a termine per ciascuno degli elementi del divisore, e scriviamo il risultato di questa operazione cambiato di segno qui in basso a sinistra. Nel nostro esempio specifico abbiamo un meno 2 per x quadro che fa meno 2x quadro, e quindi qui scriviamo più 2x quadro, e poi un meno 2 per 1 che fa meno 2, e quindi qui scriviamo più 2. E se come prima sommiamo questi due polinomi, abbiamo un meno 2x quadro che va via con un 2x quadro, e quindi ci resta solo un meno 3 più 2 che fa meno 1. Arrivati qui, vedete che il nuovo polinomio che abbiamo ottenuto, che nel nostro esempio specifico è un polinomio di grado 0, cioè un numero, ha grado inferiore rispetto a quello del divisore, e quando succede così vuol dire che abbiamo finito, e i due polinomi che abbiamo ottenuto qui e qui sono rispettivamente il quoziente e il resto della divisione. Se invece il grado del polinomio ottenuto qui fosse stato maggiore o uguale del grado del divisore, allora sarebbe stato necessario almeno un altro passaggio come quelli che abbiamo visto prima. Se a questo punto ripensate a quello che dicevamo all'inizio del video, quello che abbiamo quindi scoperto è che il polinomio x cubo meno 2x quadro più x meno 3, cioè il nostro dividendo, è uguale al prodotto tra il polinomio x quadro più 1, cioè il nostro divisore, e il polinomio x meno 2, il nostro quoziente, più il resto, che nel nostro caso è meno 1. Vi faccio poi notare che, coerentemente con quanto si diceva prima, il grado del quoziente ci è venuto pari alla differenza tra il grado del dividendo e il grado del divisore, e poi il grado del resto ci è venuto strettamente minore del grado del divisore, infatti come vedete il resto ha grado 0, cioè è un numero, mentre il divisore è di secondo grado. Volendo fare un altro esempio, qui sotto vi ho riportato un altro esercizio, questa volta già svolto, in cui ci veniva chiesto di fare la divisione tra questo polinomio e quest'altro polinomio qui. Cerchiamo a questo punto di ricostruire rapidamente il ragionamento che porta ad ottenere questo quoziente e questo resto. Beh, innanzitutto bisogna prendere l'x cubo, che è il monomio di grado più grande di questo polinomio, e dividerlo per x, che è il monomio di grado più grande del divisore, e il risultato x quadro lo si scrive qui sotto. Dopodiché si prende l'x quadro e lo si moltiplica prima per x e poi per 1, e il risultato di questa operazione, cambiato di segno, lo si scrive qui, e vedete che si ottengono questi due termini. A questo punto, se uno somma questi due polinomi, il nuovo polinomio ottenuto è quello che vedete qui in basso, e visto che ha grado maggiore rispetto a quello del divisore, si procede un'altra volta con la stessa operazione. Si prende quindi il termine di grado più grande qui, cioè il meno x quadro, e lo si divide per x, e si ottiene meno x che si scrive qui sotto. Dopodiché si prende il meno x e lo si moltiplica prima per x e poi per 1, e il risultato di questa operazione, cambiato di segno, ce lo scriviamo qui, e a questo punto si sommano questi due polinomi. Come vedete, il nuovo polinomio ottenuto ha grado maggiore uguale, anzi in questo caso proprio uguale a quello del divisore, e quindi possiamo fare un'ultima volta le stesse operazioni di prima. Quindi prendiamo questo termine e lo dividiamo per questo termine qui, e il risultato che si ottiene è meno 3. A questo punto prendo il meno 3 e lo moltiplico per questi due termini, e il risultato di questa operazione, cambiato di segno, me lo scrivo qui, e quando adesso vado a sommare questi due polinomi, vedete che quello che ottengo qui sotto è un polinomio che ha grado inferiore rispetto al grado del divisore. Infatti di nuovo ci è venuto un polinomio di grado 0, cioè un numero. E quando succede questo, allora bisogna fermarsi, la divisione è finita, e possiamo concludere che quello che ci è comparso qui è il quoziente, mentre quello qui in basso è il resto. Naturalmente dividendo, divisore, quoziente e resto sono collegati dalla relazione di cui parlavamo prima, ed anzi una buona idea negli esercizi per verificare poi di avere fatto giusto è svolgere a questo punto il conto a destra e verificare che in effetti si ottenga il polinomio che abbiamo a sinistra. Se per caso vi accorgete di un'incongruenza, cioè se una volta fatto il conto a destra non ottenete come risultato il polinomio che c'è qui a sinistra, allora significa che c'è stato un errore di calcolo da qualche parte ed è opportuno ricontrollare. Detto questo ragazzi, io per il momento ho terminato. Riprenderemo il discorso sulla divisione dei polinomi nel prossimo video in cui parleremo della regola di Ruffini, che come vedremo ci consentirà di svolgere la divisione tra polinomi in maniera molto più veloce, solo però nel caso in cui il divisore sia un polinomio di primo grado. Se vi fossero rimaste delle domande fatemele pure nei commenti qui sotto e come sempre se trovate utili questi video ricordatevi di mettere mi piace, passate a trovarmi su facebook ed instagram e date un'occhiata all'interno del canale dove troverete moltissimi altri video. Grazie a tutti.